inserimento tra cinque secondi bomba individuata l'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla ma non mi fa una kill ma non mi fa una kill che schifo ultimo attaccante è rimasto in vita ricarico copritemi esci tagliare tagliare il quadro d'attacco ha eliminato i difensori granata assordente un nemico rimasto hai trovato una bomba che preferisci tu hanno trovato una bomba che potete fare è dentro questo attratto attratto porco di l'ultimo nemico rimasto aiuto che attraversi l'ultimo attraversi 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 1 main door 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 sono salvo sono salvo bella grande ricarico dietro 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 oh no ma in A c'è qualcuno uno fuori dalla bridge uno fuori dalla bridge e l'altro? non lo so forse due da me? science? ah no main door sono defuser ultimo attaccante rimasto in vita l'altro a te vabbè squadra d'attacco eliminata hai trovato una bomba devi recuperare il disinnescatore capito cosa cazzo fa questo ragazzi? questo muore c'è guarda cazzo guarda cazzo guarda la squadra d'attacco ha eliminato i difensori ricarico copritemi la squadra d'attacco ha trovato una bomba che cosa cazzo l'ho apprezzato ricarico guarda cazzo guarda cazzo uno scale arriva uno scale azzerato ciao what? che cazzo oh quattro ti ha provato? anche tu secondo me si spara una sega ogni volta di cosa? no, no, non mi sbanetto tranquillo con la cucina granata interrogation che è? no interlocation interlocation dove è il pisellone? oddio guarda il pisellone dov'è il pisellone? mi ha stonato mi ha scattato mi ha scattato mi ha scattato mi ha scattato lì mi ha scattato sono garocco ferma è morto mi ha scattato mi ha scattato devo fare il primo ricarica trex attivato vai smocco vai innescatore è stato recuperato mi ha scattato eh mi ha scattato mi ha scattato coprite 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 è fuori guarda il drone, guarda il drone mi ha one tappato 50 di vita viene dal buco guarda il drone guarda il drone run on i pensori è giudati dove? i amici spawn in pica è giudato da sopra no vabbè dai cambio caricatore ma che è scato ma questa qua c'ha la mamma puttana non è scato non è scato non ho trovato una bomba 5 secondi all'inserimento raggiungete la bomba e disinnescate la occhi aperti per il nemico nuova nuovo caricatore apri la botola 5 secondi si esatto dovete trovare disinnescare una bomba no 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 devi aprire la bomba ricarico che coglione quell'altro ci buccia eh si ricarico nuovo caricatore ok la porta principale non sto mirando raga raga sto vedendo si si sarebbe sarebbe bene anche fare dei buchi qua sopra fra ma non abbiamo nulla quelle che non ha ma è così io non ho parole stanno sopra la botola da noi non ho appena stanno bella porco dio broto siamo a 5 secondi il nemico ha trovato una bomba prepararsi all'ingaggio il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona sei in una zona controllata dal nemico lasciala subito 5 secondi la linea di tiro della 10 da lui è un altro fuori briccio si è un altro fuori briccio piccalo piccalo zio fa cosi piccalo che cazzo è che cuore di me addio 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 addio